Buon saluto a tutti i miei spettatori presenti oggi sulle tribune. Fatti di sentire gente, accogliamo l'ingresso delle due squadre in campo con un grosso brazzo. Buon mozione di grazia che si affida in questo unici di partenza. Con il numero uno, Lev Yashin. Con il numero uno, Losaira Mazraoui. 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 Detta la turnale degli gesamti ai pescatori. Con il numero uno, hanno pensato tutto il processo delle codice. Già, 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 Già. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.